Oroscopo del giorno, giovedì 18 luglio 2019 Ariete Amore, momento di recupero per voi, soprattutto per i sentimenti. Avrete tante cose da dire alla persona amata e se dovete farvi perdonare qualcosa, fatelo adesso. Qualcuno con grande fascino potrebbe fare capitolare anche i single più testardi. Lavoro Un lavoro sono in arrivo soddisfazioni, i progetti iniziati danno dei risultati. Vi sentite bene e l'energia non manca. Toro Amore Oggi avrete modo di riflettere e capire ciò che desiderate. Cercate di gestire bene questa giornata, soprattutto per le questioni amorose. I single che provengono da una storia sofferta potrebbero essere animati da un nuovo spirito di avventura. Lavoro Evitate complicazioni in ambito lavorativo, come discussioni con i colleghi per idee divergenti. Genelli Amore La vostra sicurezza vi renderà particolarmente attraenti agli occhi del vostro partner. Per i più romantici è la giornata buona per sorprendere chi amate. I single dovranno stare attenti a non esagerare con i complimenti. Potrebbero risultare forzati. Lavoro Nell'ambito lavorativo è tempo di fare progetti a lungo termine. Ottime soddisfazioni e parecchi successi sono alle porte. Cancro Amore Dovete gestire con calma le emozioni ed evitare di fare troppe cose tutte insieme. In amore vi sentite un po' sottotono. Ci sono delle tensioni con il partner. In arrivo appuntamenti galanti per i cuori solitari, che possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Lavoro Ci saranno occasioni di cambiamento impossibili da lasciar perdere e che potranno dare una svolta alla vostra vita. Leone Amore Buona energia in questa giornata. Le stelle sono dalla vostra parte, anche per quanto concerne i sentimenti. Attenzione però a non cedere alle false adulazioni. I single che sono a caccia dell'amore potrebbero essere ostacolati da persone troppo rigide. Lavoro Potrebbero esserci delle occasioni in ambito lavorativo. Non perdete tempo e approfittatene. Vergine Amore La gelosia nei confronti del partner potrebbe peggiorare e il vostro amore potrebbe iniziare a dare segni di sofferenza. Cercate di lasciare al partner i suoi spazi per non alimentare malcontenti. Per i single sarà un giorno da dedicare agli amici. Poche novità. Lavoro Attenti alle tensioni sul posto di lavoro. Lo stress potrebbe giocare brutti scherzi. Moderate i toni con i superiori. Bilancia Amore Oggi potete ricevere delle risposte che riguardano il lato sentimentale. Chi ha già una storia potrà fare progetti importanti con la persona amata. I single stringeranno amicizie molto vantaggiose, pronte a cedere il passo a dolci e tenere attrazioni. Lavoro Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete particolarmente stanchi. È ora di prendervi un periodo di riposo. Scorpione Amore La sfera sentimentale e quella familiare oggi andranno bene. L'amore è a gonfie vele per molte coppie. Stabilità anche per coloro che hanno una relazione da tempo. Con Marte nel segno i single saranno pieni di energia e fascino. Lavoro Sarete soddisfatti e avrete più tempo a disposizione per svolgere lavori che solo voi potete tenere sotto controllo. Sagittario Amore Piccole tensioni con il partner potrebbero mettervi a dura prova. L'importante è non cedere alla rabbia e gestire la situazione con calma e razionalità. Ottima giornata per chi è single. Buoni gli incontri con nuove persone interessanti. Potranno stimolarvi. Lavoro Siete carichi, produttivi e concentrati. L'ambito lavorativo favorevole renderà più facili i rapporti con i colleghi. Capricorno Amore Niente di rilevante per la situazione di coppia. Tutto procede a gonfie vele. Ma fate attenzione a non passare troppo tempo al lavoro. I cuori solitari con venere dalla loro parte potranno fare grandi conquiste. Lavoro Le vostre ottime capacità di relazione e lo sficcato senso degli affari vi faranno ottenere ottimi risultati. Acquario Amore Giornata ideale da dedicare al relax. Sarà il giorno giusto anche per chiarire un malinteso in amore. Avrete le occasioni giuste per risaldare un'intesa. I single faranno nuovi incontri che potranno trasformarsi in dolci e romantiche storie. Attenti alle trappole Lavoro Tra alti e bassi vi difenderete bene e riuscirete a mettervi in un'ottima posizione di difesa. Per adesso l'unica mossa giusta da adottare. Pesci Amore Sarete un po' apatici ma per fortuna il partner saprà sorprendervi con i suoi modi affettuosi. Cederete al suo fascino e vi lascerete andare. Se siete single lo stress vi farà dei brutti scherzi. Sarà meglio programmare una vacanza al più presto. Lavoro Oggi tra poche soddisfazioni e anche qualche insuccesso la giornata non sarà al top delle aspettative. Ok. Ok. Grazie a tutti. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.